A Trieste c'è la Basilica Romanica, il Foro Romano e il Castello Medievale, tutti sullo stesso colle. A Trieste c'è il mare. A Trieste ci sono antichi vicoli da scoprire. A Trieste c'è il segno di Roma antica. A Trieste c'è la piazza sul mare più grande d'Europa. A Trieste, come diceva Umberto Saba, c'è una scontrosa grazie. Svevo e Joyce che passeggiano ancora per le vie del centro. Il neoclassico, l'eclettico, il Liberty e 500 anni di storia austriaca. A Trieste c'è tanta musica. C'è il teatro lirico. Ci sono teatri di prosa, associazioni culturali e locali notturni. A Trieste c'è il castello di Miramare. A Trieste adesso c'è Balconi TV. Io sono Ricky e ora vi porto sul balcone.